Da ben quattro generazioni produce un olio extravergine d'oliva di eccellente qualità, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il frantoio oleario Cassese, ubicato a Villa Castelli, a metà tra la murcia di sud-ovest e l'Alto Salento, è un'azienda storica, ma che fa dell'innovazione il suo punto di forza. Oggi a gestire il frantoio c'è Giuseppe Cassese, ma l'azienda nasce col suo bisnonno. Il nostro prodotto è un olio extravergine d'oliva rigorosamente estratto a freddo, periodo di raccolta da a metà imbagliatura, o meglio da a metà ottobre, massimo a fine novembre. Particolare attenzione viene riservata al metodo di conservazione dell'olio in vasche interrate in acciaio inox. E quest'anno abbiamo voluto lanciare una novità sul mercato, il quarantesimo parallelo. Il quarantesimo parallelo è un blend tra olierole e biancolilla, molto fruttato dai sentori erbacei, diciamo. Abbiamo fatto una piccolissima quantità di quest'anno come prova e ha avuto l'esploit sul mercato. E poi ci sono gli oli aromatici. Per affiancare i classici oli e in collaborazione con chef di alta classe abbiamo creato ben 23 tipologie di oli aromatizzati, idonei ad abbinarli a piatti di eccellenza. Non solo commercializzazione, ma anche promozione del territorio. Parliamo molto del nostro territorio, delle nostre tradizioni e di quello che realmente esiste qui in Puglia. Grazie.